Le luci dell'albero della sostenibilità illuminano il cortile d'onore della prefettura di Pesaro. A Palazzo Ducale splende da questo weekend la luce dell'albero realizzato da Marche Multiservizi in collaborazione con il progetto SCART che ridà vita in forma artistica ai rifiuti. Alto circa 5 metri, l'albero è realizzato con oltre 6.000 bottiglie di plastica riciclata fornita da Aliplast. Una sinergia virtuosa tra società e progetti del gruppo ERA, Multi Utility Italiana, leader nel settore degli impianti di selezione e recupero dei rifiuti. Abbiamo voluto questo albero per dare anche un segnale, un messaggio importante sulla sostenibilità e sul rispetto dell'ambiente. È un albero che troviamo molto bello soprattutto quando sarà illuminato e siamo felici di poter condividere con la città questo momento importante qual è quello dello scambio degli auguri con tutti quanti. Crediamo che sia un albero molto bello che doniamo alla prefettura, alla comunità di Pesaro ma che abbia un messaggio evidente, anzi non lo nasconde, molto importante che è quello della sostenibilità, quello del riutilizzo dei rifiuti. Tutti i rifiuti non esiste, seguendo anche quello che è un po' i principi, i criteri dell'Unione Europea, la fine del concetto di rifiuto. Quindi il rifiuto non esiste, è una materia che deve essere recuperata, riciclata, rimessa nell'ottica dell'economia circolare, appunto, nell'economia.